Delia Duran e Soleil Sorge continuano a confrontarsi davanti alle telecamere, ma la modella non regge lo stress del faccia a faccia e una volta entrata in salone cede alla lacrime. La puntata di lunedì 17 gennaio del grande fratello VIP si apre con l'ennesimo confronto tra Delia Duran e Soleil Sorge. Nonostante la modella sia entrata in casa da qualche giorno, le due non hanno mai avuto un confronto, come sperava la moglie di Alex Belli, ma sono state a debita distanza. Ci pensa Alfonso Signorini a farle parlare, ma come volevasi dimostrare il loro faccia a faccia finisce per essere deleterio ed Elia crolla sotto il peso delle sue stesse argomentazioni, finendo col piangere e trattenere la rabbia in diretta tv. La prima a prendere la parola è come sempre Soleil, che non esita a far valere le sue ragioni, ribadendo il suo disinteresse nei confronti della compagna di Alex e il suo fastidio già espresso nei giorni scorsi, non ho cercato il confronto con te, se tu hai bisogno di chiarezza, sono qui per parlare, ma questa soddisfazione e questa felicità per ferirmi sei venuta qui per ferire tuo marito e lo fai con te stessa. Non volevi farlo ma si è sempre visto. Ho voluto comprendere la tua rabbia, ma adesso anche basta. Delia, invece, cerca di mantenere la calma e sottolinea la sua difficoltà nel trattenere i suoi sentimenti, quando sono entrata in casa è difficile parlare con una persona con cui sono successe tante cose con mio marito, sei arrivata in un discorso nel quale tu potevi chiedermi permesso per parlare e non lo hai fatto, per me penso che il rispetto è importante.